Un clima di distensione, un clima di collaborazione e le diamo atto che è così, ma abbiamo dovuto per forza dire che non è stato così nel passato, perché in questa prefettura era impossibile entrare e quindi il problema è questo. E poi i sindaci, ahinoi, sono veramente dei baluardi della legalità, ma sono purtroppo isolati e senza nessuna possibilità di avere dei rapporti con lo Stato. In fondo noi siamo dei rappresentanti dello Stato capillarizzati, devo dire e devo dare atto al prefetto e lo stesso al ministro che questa apertura ci fa molto piacere, ci fa sentire meno soli.